Onorevole Paolo Fontanelli, Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Dai dati emersi dal PIT Salute, il quadro della sanità italiano è allarmante. Quali gli interventi necessari per tutelare il diritto alla salute? Innanzitutto bisogna affermare con nettezza la volontà di difendere il sistema sanitario nazionale con il principio dell'universalismo, cosa che oggi viene messa un po' in discussione quando si vuole il problema sulla insostenibilità dei costi del sistema sanitario nazionale. Questa è la prima esigenza che c'è adesso. Detta questo bisogna anche essere consapevoli che di fronte a una crisi finanziaria come quella che abbiamo davanti quindi è necessario comunque pensare a un processo profondo di riorganizzazione del sistema sanitario nazionale eliminando fasce di spreco, rendendolo più efficiente, soprattutto creando le condizioni nei tempi medi per far sì che l'offerta dei servizi sia appropriata rispetto a quella attuale perché spesso l'inappicordezza produce anche un successo di domande sia sul piano diagnostico che sul piano farmaceutico, sicuramente. Quindi abbiamo bisogno di lavorare a un disegno che partendo dal fatto che le risorse sono oggettivamente diciamo meno di prima bisogna utilizzarle meglio ma in un contesto che salvaguardi e difenda pienamente il sistema sanitario nazionale. Infatti taglia le risorse e l'introduzione di nuovi ticket e mettono a dura prova il rispetto del principio di equità e di accesso alle cuore. Come evitare l'aggravarsi delle disuguaglianze? Beh, sulla vicenda dei ticket credo che bisogna ricorrere qualche ragione peraltro l'ha fatto, insomma, in difficoltà perché ha dovuto inventarsi su due piedi, diciamo, iniziative di questo genere, credo che bisognerà pensare, diciamo, a tutelare alle fasce a reddito più basso, cioè non è giusto effettivamente applicare i ticket in modo differenziato da tutte e lo stesso modo, in questo punto, a meno risorse che è più po' perché nella fascia del digerio sociale non paga un prezzo che può mettere in discussione effettivamente la sua possibilità di curarsi, di accedere, diciamo, a dire, alla salute. Peraltro in un contesto in cui in Italia negli ultimi anni abbiamo visto crescere in maniera significativa la spesa sanitaria privata, cioè le spese anche delle famiglie, cioè significa che già rispetto alla domanda di salute complessiva, anche con qualche elemento di inaprovvidenza, comunque da parte dei cittadini c'è, come dire, oggi una spesa maggiore rispetto al passato per frotteggiare, diciamo, le exigenze. Non è questa la strada che bisogna seguire, nel senso che questa può avere credibilità a quella tesi che siccome ci sono più risorse per tenere i piedi del sistema sanitario pubblico bisogna dar vita a un pilastro della sanità pubblica e privata. Questo sarebbe il primo passo per mettere in discussione l'universalismo del diritto alla salute per creare una divisione sociale che non sarebbe accettabile sul piano della comunità pubblica del diritto alla salute. Bene, grazie.